Ciao ragazzi, questo è l'Odd Man Out L'Odd Man Out è un gioco che si basa sull'effetto monte L'effetto monte è quell'effetto dove lo spettatore deve trovare la money card La money card è la carta vincente, quella diversa da tutte le altre Ora iniziamo con gli ostrabili delle carte Abbiamo una carta bianca, un asso di cuori, una carta bianca e un'altra carta bianca Come avrete capito, la money card in questo caso è l'asso di cuori Io a solito tolgo la money card e la metto sul tavolo Non è difficile vedere qual è perché è l'unica faccia in su Anzi, è l'unica ad avere addirittura una faccia Ma a me basta fare un piccolo giro così Ed ecco che appare un'altra money card in mezzo a tutte le carte bianche Se io infilo la money card in mezzo alle carte bianche e faccio un giro Ecco che automaticamente le money card diventano 2 E attenzione perché con un altro giro ecco che le money card diventano 3 A questo punto avreste sempre perso perché la money card era la carta bianca Potrei farvi dare un'altra chance e cercare di trovare qual è l'asso diverso da tutti gli altri assi Ma perdereste anche qui perché gli assi sono tutti diversi The odd man out Ciao